Rugby, mercoledì, la finalissima a Rovigo Petrarca. Presentazione ufficiale questa mattina della finale del campionato top 10 di rugby. Presenti a Padova il presidente Zambelli, il coach Umberto Casellato e il capitano Matteo Ferro. Nel rispondere alle domande, Umberto Casellato ha svelato gli assenti. Ci saremo tutti, all'eccezione di Modena e Mastrandea, che sono infortunati da tempo, e di Citton, che non farà in tempo a ricevere nulla osta. Per il resto, tutti presenti. E cosa dirà la squadra? In tre anni siamo arrivati a due finali scudetti e abbiamo vinto la Coppa Italia. È un gruppo che in parte, come me, con la finale di mercoledì finirà il suo percorso. Un motivo in più per dare il meglio. Quello che ho chiesto è di giocare con il cuore e la grinta degli ultimi 5 minuti contro Calvisano. Tutti esauriti i biglietti per la finalissima! Nel primo giorno di vendita libera dei biglietti per la finalissima è stato un vero e proprio assato al botteghino. Fila chilometrica sabato pomeriggio fuori da Battaglini, benché oltre la metà dei biglietti a disposizione dei supporter rosso-blu fosse già finita nelle mani degli abbonati, che hanno esercitato il proprio diritto alla prelazione. E l'effetto sold out è servito. A metà pomeriggio anche l'ultimo dei 950 biglietti a disposizione è andato esaurito. Ormai la speranza di trovare un ticket disponibile è ridotto all'umicino. Tromba marina! Danni per decine di migliaia di euro! Alle 2.45 nella notte fra domenica e lunedì, una violenta e improvvisa tromba d'aria ha imperversato a Chioggia sui bagni Perla e bagni Minerva. La stima dei danni è ingente. Si parla di 30.000 euro di danni al primo con l'insegna di velta e danni al parcheggio e all'attrezzatura da spiaggia. Per i bagni Minerva, invece, i danni potrebbero raggiungere i 50.000 euro. 21 camerini nuovi sono infatti annati distrutti, oltre ai danni al parcheggio e agli ombrelloni. Gli operatori, fin dalle prime ore del mattino, si sono rimboccati le maniche per sistemare tutto, tanto che gli stabilimenti sono comunque funzionati regolarmente. Una nuova auto per la Croce Rossa È l'ennesimo meritorio service dei quattro Rotary Club del Polesine a favore del territorio, quello che sabato pomeriggio ha visto la consegna di una Renault Clio alla Croce Rossa italiana di Rovigo. Il progetto, che ha visto come capofila il Rotary Club Badia Alto Polesine, guidato da Laura Negri, in sinergia con i club Amici di Rovigo, Adria e Porto Viro Delta del Po, è stato sostenuto anche da Distretto 2060 del Rotary Club. La consegna è venuta in piazza Vittoria Rovigo, alla presenza del presidente della Croce Rossa italiana di Rovigo, Alberto Indani, i tantissimi volontari della Croce Rossa, i presidenti dei club Polesani e i componenti del Rotary Club Badia Alto Polesine, Andrea Mercusa e Stefania Turazzi, curatori del progetto, insieme all'assistente del governatore, Franco Gobbi. La pop art di Andy Warhol sbarca a Chioggia Si è svolta sabato nel chiostro del Museo Civico della Laguna Sud l'inaugurazione della mostra Andy Warhol, an American Artist, che accoglierà i visitatori da oggi fino al 12 settembre prossimo. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Chioggia con il patrocinio della Regione del Veneto e in collaborazione con l'agenzia MV20 di Vicenza. La mostra, curata da Matteo Van Zahn, racconta la rivoluzione del genio di Pittsburgh attraverso un percorso espositivo di oltre 50 opere che andranno ad inserirsi all'interno della collezione del museo, creando un intreccio sensoriale tra cultura, materiale e arte contemporanea. Una nuova casa per i nostri animali Non soltanto un negozio per animali, ma un vero e proprio riferimento per il pet care a 360 gradi. È il nuovo negozio dell'Isola dei Tesori, nell'area del centro commerciale La Fattoria, nello stabile che ospita anche il cinema multipiano. Sabato, infatti, è stato metaforicamente tagliato il nastro del nuovo punto vendita, che propone servizi innovativi, dalle assicurazioni per i nostri amici animali al veterinario a disposizione telefonicamente 24 ore su 24 e fino alla lavanderia dedicata ai prodotti per i nostri amici a quattro zampe. Ma non è tutto, nel negozio anche una toilettatura specializzata e un grande reparto di acquariologia con prodotti specializzati. Grazie per la visione!